Allora, vi devo dire che ieri, mentre ero a cena, a un certo punto ho pensato, devo cambiare le slide. Questa notte sono andata poi a casa, cioè in stanza e ho cercato tra tutte le foto che avevo quello che poi vi volevo mostrare oggi. Ci ho messo un po' perché non sapevo dove le avevo salvate, perché volevo condividere con voi un'illuminazione che ho avuto, proprio l'ho capito oggi con voi e quindi l'ho capito io e vorrei condividerlo. Da un po' di tempo il mitocondrio è al centro di tutte le mie attenzioni cliniche nei confronti della cura dei problemi del neurosviluppo. Non tutti voi eravate presenti ieri, io sono la dottoressa Greco, ma mi occupo di fisiatria e nell'ambito della fisiatria da anni trascorro la mia vita professionale con i bimbi, con sindrome dello spettro autistico, ma anche con altre situazioni più sfumate o anche più gravi talvolta, che inficiano in qualche modo il loro neurosviluppo. Quindi dalla DHD, la dislessia, disgrafia, discalculia, disprassia, io ho un figlio, Alessandro, con queste caratteristiche e poi la vita mi ha portato a esperire la realtà di famiglie che nella loro vita portano la prova di un bimbo con sindrome dello spettro autistico. Spesso questi bimbi sono dei maestri e io oggi vorrei con voi farvi capire cosa c'è dentro al mondo di questi bimbi. Non sto vedendo il presidente, Marcus e tante altre persone che in questi giorni mi hanno dato un'immensità di emozioni, ma confido nel fatto che avranno la possibilità di ascoltare questa cosa che ho da dirvi, perché dentro questi bimbi c'è un mondo che quando entra in noi ci cambia per sempre. Poi nell'ambito del neurosviluppo PANS, PANDAS, Asperger, problemi neurologici cerebrovascolari da danno ipossico o anossico, dove i bambini in qualche modo hanno poi delle problematiche nelle varie competenze. I mitocondri sono al centro di tutto e l'S-Drive ha portato un valore aggiunto in tanti aspetti che non potevano essermi così palesi senza l'aiuto di questo grandissimo strumento. Quali sono gli aspetti in cui è utile la visione dove mettiamo il mitocondrio al centro? Sono proprio l'interazione dei mitocondri col microbiota, la capacità di rigenerazione mitocondriale soprattutto notturna nella parasimpaticotonia notturna, nella basificazione della matrice nella rigenerazione mitocondriale, nella possibilità di intervento epigenetico sul mitocondrio sulla base dell'S-Drive. E così io piano piano, in punta dei piedi, delicatamente, sono entrata nel corso degli anni a conoscere cosa c'è al di là della non verbalità, della iperattività, dell'ipersensorialità di questi bimbi e dentro loro ho avuto tantissime risposte. Vi ho detto ieri e vi ribadisco oggi che per tanti anni oserei dire ho in qualche modo ignorato e rimandato l'uso dell'S-Drive. Lo avevo e lo usavo poco, avevo timore di fare male ai bambini nel tirargli il bulbo e poi ho avuto il coraggio di farlo un giorno e oggi stanotte ho capito perché. Questi bimbi in qualche modo ti mandano dei messaggi, io sono abituata fin da quando ero piccina a leggere i messaggi che la vita mi manda. Non ve lo sto a dire adesso perché ma anche a Paolo che è l'amore della mia vita e mio marito, quando l'ho conosciuto io avevo 13 anni e lui 17 e ho letto dei messaggi che l'universo mi dava per comprendere alcuni aspetti della nostra unione e anche con loro è stato così. Dentro ogni bimbo c'è un mondo che io chiamo terreno ma si può chiamare in mille altri modi, è il film della loro vita fatto di emozioni, eredità, costituzione. Io in questa scuola ho imparato delle cose che non avevo imparato in questo modo e in queste modalità e di questo film dobbiamo tenere conto. Ho pensato come faccio a tirar fuori quello che hanno dentro? Ho chiesto ai bambini non verbali di scrivere, molti di loro scrivono con la tastiera, altri con la mano proprio scrivendo. Abbiamo scritto dei libri, hanno scritto loro, loro scrivono, hanno dei contenuti incredibili e io poi faccio il mio commento medico cercando anche il link scientifico a tante verità che loro tirano fuori. Questi sono, li ho chiamati luci nel mondo, ieri si è parlato tanto di che siamo i guerrieri della luce, i medici che cercano di mettere insieme tutti questi puntini che creano poi un'immagine unica, individuale, che fa di quel soggetto un soggetto unico e questo ha aumentato tantissimo la loro autostima, la loro possibilità di esprimersi. Vi ho messo qui il cellulare di Titina, Titina è la mamma di un bambino con autismo, di un ragazzo grande con autismo, chi di voi volesse leggere qualcuno di questi libri chiamando Titina, scrivendo un whatsapp a Titina, c'è anche su Amazon, però prendendolo da lei loro hanno un guadagno maggiore i bambini, i ragazzi. Questa è una frase che ha detto la Lisa, che è una ragazza grande, tutto quello che davvero amore trova strade più efficaci per espandersi che non la parola. E' quanto abbiamo parlato d'amore in questi due giorni, quindi è proprio così e credo che questa sia la loro immensità. Ecco adunque l'illuminazione di stanotte. Arriva Andrea, Andrea è un ragazzino di otto anni, non verbale, scrive, scrive sia con la tastiera che a mano. Arriva da me, mi porta questo disegno che io ho appeso in studio, non mi ricordo che mese era, però non tanti mesi fa, cioè quando io ho iniziato a usare l'est drive. Arriva e mi porta questo disegno e me lo dà. Io lo guardo e dico, ah che bello Andrea, lui mi ha scritto, a te che mi guiderai verso la guarigione il tuo Andrea. E io l'ho guardato il disegno e ho detto, ma Andrea ma c'è un cuore con una signora e un bambino e la tua mamma? E mi fa, no dottoressa, lui non verbalmente scrivendo, no sei tu dottoressa, perché mi curi col cuore? E quel filo che unisce il cuore a quel centro con una spirale cos'è? E quello che tu farai per me e per tanti bambini come me è per farci stare meglio. e dico, ah, quelle rose che ci sono, quei pallini che ci sono, sono i nostri passi, perché io lo seguo da anni Andrea. Lui quando arrivò da me era in una situazione allucinante, i genitori non sapevano da che parte iniziare, lui aveva dei comportamenti ingestibili, si sono messi in discussione su tutto, i genitori sono molto semplici, non c'entrano nulla col nostro lavoro, non hanno competenze scientifiche, non hanno fatto percorsi. Vi sto dicendo questo perché poi lui ha scritto altre cose e tu dici, ma da dove li ha prese sto bambino di otto anni? Sembra che parli un uomo di quaranta. E mi ha detto che quelli erano i nostri passi, che infatti era da tanti anni, no? E poi a maggio del 2023 mi scrive, cara dottore, quella è la sua grafia, cara dottoressa mi va di scriverti una lettera perché da tanto non lo faccio. Voglio dirti che sono felice di avverti nella mia vita e sento che siamo vicini alla guarigione. Avevo fatto il primo S-Drive e quello è l'est drive, quel disegno. E sento che siamo vicini alla guarigione perché la cura che sto facendo è quella giusta. Lo sento poiché sto molto meglio, a parte qualche fastidio in questi giorni, dovuto alla luna, perché? Perché lui è l'intestino il suo problema e nel ritmo cronobiologico di tanti aspetti che fenotipicamente poi noi come medici vediamo come aspetti clinici ingestibili talvolta, in realtà andando a considerare tutto, quindi la cronobiologia, l'alimentazione, il suo sonno e il S-Drive lì è una bussola epigenetica imprescindibile, ecco che lui stava meglio. E spero tu possa essere presto fiera di me, senza te non ce la potrei fare perché tu hai curato la mia anima oltre al mio corpo, non vedo l'ora di vederti perché così potrò abbracciarti e stare con te. Sei la mia luce e sono felice. Questa è una frase che mi ha lasciato senza brividi, cioè brividi davvero perché come fa un ragazzino così a dire cose del genere. Comunque io mi sono ricordata mentre cenavo, ieri sera infatti qualcuno del mio tavolo, c'era l'amico Luca Speciani, ho detto a Francesco, guarda Francesco scusami, non riesco a salutare gli altri ma devo andare via, devo fare questa cosa perché sapevo che avrei dovuto cercare queste foto, non mi ricordavo dove le avevo messe e lui ha parlato di anima e noi siamo qua e è la prima volta che Giorgio ha pensato a un congresso che parlasse di questo aspetto e forse questo era un po' un punto di incontro importante. ed era lì che io ho preso il coraggio, dico ma figurati se io mi devo fermare a non usare l'est drive perché non gli voglio tirare il bulbo e da lì la mia vita è cambiata, ma cambiata davvero, proprio in maniera importante nell'approccio e quindi questa centratura, questa spirale che porta alla guarigione un passo dopo l'altro io l'ho trovato in questa scuola meravigliosa che quindi chiedo e invito veramente a tutti di prendere in considerazione perché i docenti che sono presenti in questa scuola non sono solo, cioè già il fatto che siano internazionali e che ci possano portare apporti scientifici, aggiornamenti che fanno di noi dei medici che possono portare un contributo maggiore, una differenza nella pratica clinica è già tutto, ecco. Poi l'empatia, la disponibilità, l'apertura, il non egocentrismo, il non giudizio è qualcosa che si tocca con vano ogni singolo giorno nella scuola di alta formazione epigenetica. E quindi perché Andrea stava male? E perché i mitocondri sono importanti anche per il microbiota? Perché? Io penso che prima o poi la scienza debba iniziare a parlare di assi microbiota mitocondrio. Penso che sia uno degli aspetti che mancano e che sono lì davanti ai nostri occhi e questi bimbi hanno sempre, quasi sempre, se tu li vai a cercare nelle famiglie mi capita a volte di parlarne e che poi i genitori mi dicano guardi dottoressa io sto vedendo che mio figlio effettivamente è così pancia gonfia, alito pesante, lingua impagnata, ciglia che si intrecciano, pupille dilatate anche quando c'è la luce l'assità del polso, grattini in gola, avere l'atteggiamento di fare un suono gutturale come se si grattassero il palato così loro lo fanno tutto il giorno o si grattano o fanno o la tossetta o il muoversi a scatti durante la notte questi sono tutti segnali di questi intestini alterati che seguono molto il ritmo delle giornate, il ritmo della luna, il ritmo di quello che mangiano cioè l'influenza epigenetica di quello che mangiano il prurito del sederino, il prurito nasale, il prurito delle parti genitali sono tutti aspetti molto importanti che occorre insegnare ai genitori a intercettare in modo da essere loro i protagonisti di una cura che altrimenti io non riesco a portare avanti queste sono le ciglia normali, dritte, parallele, altrimenti sono intrecciate dormono con gli occhi semi aperti hanno la lingua bianca già fargli pulire la lingua aiuta i nostri mitocondri voi direte ma perché? perché toglie tossine che altrimenti loro si buttano giù quando ingoiano la colazione al mattino dalla parte posteriore a quella anteriore e quindi noi possiamo vedere con l'ass drive un sacco di cose che ci portano a intervenire nel mitocondro la sensibilità alle geopatie l'utilità dell'apporto dei precisi e minuacidi che la carnitina ha cambiato tantissimo la funzionalità energetica dei corpicini di quei bambini dove mi veniva segnalata all'ass drive e dove non era segnalato gliel'avessi data magari era una cosa in più che in quel momento il suo corpo faceva fatica a processare è lì che fa la differenza il terapeuta con l'ass drive gli dà la cosa che gli serve al momento giusto anche gli antiossidanti e quanti ce n'è? ma lì abbiamo un'indicazione idratazione idratazione interna mitocondriale inversione del rapporto acqua extra ed intracellulare muffe spore superossido dismutasi lo stress ossidativo ricordiamoci che i mitocondri sono tutte cose che ci hanno detto poi mi dovrei trasformare in miceli e non è il caso però sappiate che io vorrei avere il tempo di parlarvi di tante cose ma le impareremo nella scuola in ogni caso è un organello fantastico produttore di energia la base energetica della cellula e la teoria endosimbiontica del mitocondrio ci fa comprendere il perché dovremmo parlare di asse mitocondrio microbiota perché lui ancestralmente in qualche modo in qualche cosa ha delle memorie batteriche e quindi anche questa membrana interna tutti questi aspetti particolari che il mitocondrio ha per cui è come se ci fosse una collaborazione tra mitocondrio e cellula si sente da tanto alle nostre cellule al nostro corpo l'adenosintrifosfato ci dona energia ma nel contempo lui è protetto e con noi conduce questa vita meravigliosa noi abbiamo gli anni dei nostri mitocondri ricordiamoci il DNA mitocondriale ricordiamoci l'origine materna ricordiamoci che sia il microbiota che il DNA mitocondriale tanto matrizza cioè la linea che dobbiamo sempre prendere in considerazione quando prendiamo in considerazione il fin della vita del bambino il DNA mitocondriale quindi è importante la riduzione dei livelli di radicali liberi dell'ossigeno lo fanno funzionare meglio è come se lo rendessero più leggero e può avere un intervento positivo nella salute del microbiota e nelle eubiosi la modulazione epigenetica passa attraverso la salute mitocondriale questo è imprescindibile e mi ha portato nella vita a comprendere come spesso ci sono delle situazioni di profonda astenia di deconcentrazione di alterazione di memoria di attenzione divisa in cui in questi bambini ciò va così perché è il mitocondrio che ha bisogno d'aiuto adesso io non so come dire a mio marito che vorrò fare quella scuola perché rischio rischio di brutto ma io lo sento che è possibile che io possa fare quella scuola sempre se non appunto se Paolo non mi dice che vuole il divorzio è il DNA mitocondriale che decide la nostra longevità ma anche la salute mitocondriale che permette al microbiota di stare meglio la concentrazione di migliorare possiamo prendere tanti provvedimenti a livello epigenetico ma il più importante è l'ossigeno quello che Giorgio dice sempre che chiamo a on demand e sì il self-food che io dico sempre a piccole dosi lo do nei bambini con sindrome dello spettro autistico ne basta pochissimo tre volte al giorno ma pochissimo e impariamo che le nostre cellule parlano sottovoce abbiamo un'azienda dentro il direttore è l'ipotalamo e l'ipotalamo è ancestrale antico come il mitocondrio e c'è una segretaria chiamiamola così la leptina che gli va a dire un sacco di cose e noi grazie al dialogo della leptina con l'ipotalamo possiamo ogni giorno far sì che il nostro organismo sia più in salute e ridurre invece la visfatina che è una molecola di segnale che induce aumento di resistina insulino resistenza e che arriva se siamo ipo-ossigenati ecco che il self-food in questo circolo vizioso lei è la di pochina che è la leptina ci fa dobbiamo ovviamente evitare anche le cose zuccherate altrimenti non funziona bene ci fa funzionare meglio il nostro amico mitocondrio ecco sono proprio i stangio protettori ma sono una parte minima di quello che è stato detto prima e vediamo tutto quello che fa il nostro self-food è fondamentale nell'ossigenazione delle cellule migliora la pressione parziale di ossigeno ma non mi riferisco solo al saturimetro alla saturazione di ossigeno che possiamo prendere col saturimetro ma alla vera ossigenazione mitocondriale che fa sì a volte quando non va bene che i nostri globuli rossi se facciamo un campo scuro a quei bambini sono tutti impilati non scorrono bene e allora la vita mi ha portato a ideare un tipo di alimentazione che corrisponde quasi in tutto e per tutto a quello che ha detto il bravissimo dottor Spattini prima e io collaboro da tanto con Garitano arrivo dalla medicina di segnale con Luca Speciani e prendendo Luca mi prende sempre in giro mi sembra che adesso non ci sia ancora c'è oggi pomeriggio dice che appunto la dieta che do a questi bambini è immensamente meticolosa spacca il capello si adegua alle biotipologie alla loro situazione del microbiota così ci scherziamo sopra con Francesco la sua dieta antinfiammatoria e io ho dovuto fare ancora una cosa diversa ho dovuto perché non ne avevo il tempo ma c'era bisogno finito alimentazione mitocondriale antinfiammatoria acronimo che guarda caso ha ripreso il nome del mio libro Ama dove avevo parlato di aspetti della mia vita che non vi sto a dire e quindi ricordiamoci che è solo così grazie alla salute mitocondriale che abbiamo un ATP che è la molecola ed è la moneta di scambio del nostro corpo energetica senza la quale non possiamo vivere non dobbiamo combattere nulla neanche i radicali liberi li dobbiamo solo modulare e questo ci permette di fare il self food è un modulatore a me piace chiamarlo così il mitocondrio quindi al centro della vita alla base della salute alla sorgenza della fonte energetica del nostro corpo e alimentazione mitocondriale antinfiammatoria che vi insegnerò senza riserve nella scuola e alla base del benessere della salute mitocondriale ed è il primo modo per amare noi stessi e l'altro grazie grazie